Un anticiclone troppo a nord sull'Atlantico favorisce, sta favorendo una discesa di aria fresca che va a alimentare, è cibo per una depressione che su di noi poi provoca questo tipo di tempo perturbato. Prevediamo infatti sul Bassanese, sul Vicentino, per le prossime ore, per domani, inizialmente ancora una nuvolosità compatta che copre totalmente il cielo, avremo delle precipitazioni, ripeto, nelle prime ore, poi un intervallo e poi a metà giornata potremo avere un ritorno, quindi ancora qualche precipitazione. Poi avremo un graduale ma lentissimo miglioramento e per domenica avremo una nuvolosità irregolare che non coprirà tutto il cielo, quindi ci sarà spazio per qualche rasserenamento. Le temperature con questa situazione rimarranno al di sotto della media, quindi 14-15 gradi le minime, poi le massime che non raggiungeranno i 20 gradi o li raggiungeranno appena per domani, poi riguadagneranno i rasserenamenti per domenica e potremo raggiungere i 22-23, anche i 24 gradi in pianura. Per finire, chi interessa, in questo periodo l'Alta Triadica è previsto mosso per domani, tenderà poi al poco mosso per domenica.